io sono qua e sono qua posso anche provare il tiro la parata ma cosa fanno un altro calcio di rigore per fallo di mano ma vi rendete conto ma quello non è un fallo di mano ce l'avevo dietro la calcio di schiena attaccata al corpo la mano non si può chiudere un cazzo di primo tempo così 1 a 0 per loro vai così vai che ce la possiamo fare ce la possiamo fare questa è buona non è possibile ci trovo dovevamo farlo per forza il passo sbagliato se no in giro non contenti provano a salire sale l'urro del pubblico dalle tribune si gioca in una vera e propria bolgia il momento è questo quello di dare tutto per farlo sbaglia il passaggio incredibile sbaglia il passaggio hanno l'occasione attenzione per trovare il centro ha sprecato tutto da pochi passi ha optato per la potenza la palla non è uscita di molto mi ha anche sostituito abbiamo pareggiato 2 a 2 sembra un risultato negativo prossima partita contro il como palermo come vediamo se la vinciamo altrimenti la serie b qua ormai difficilmente le riuscivano a vincere vai così vai così passamela a me la devi passare coglione a me la devi passare non loro madonna quanto fanno queste cose che nervi uuuu cosa ha preso madonna l'avevo vista l'avevo vista guardami che sono qua vediamo se riesco a smaccarmi vediamo se riesco a driblarlo ci riesco attenzione in mezzo a 2 ci provo ancora madonna madonna che azione madonna che azione vai avanziamo in contropiede andiamo così vediamo se riesco a saltarli vediamo se riesco a saltarli ci riesco attenzione eh no mi ha pestato la palla mi ha preso con il piede peccato era un'azione bella finisce il primo tempo 0-0 partita nulla non è successo praticamente niente a parte quelle pochissime occasioni attenzione perché riesco a recuperare palla riesco a recuperare palla vediamo chi si fa vedere eh sono stato costretto a ripassare l'intietro mi ha passato la palla in modo proprio bruttissimo non c'era momento peggiore per passarmela attenzione hanno recuperato c'è stato un gol della partita che riguarda il Ceno andiamo subito a collegarci è arrivata la seconda rete per il Ceno ma è così vediamo cosa sanno fare adesso vediamo cosa sanno fare attenzione si fa rubare palla la recupera e la recuperano di nuovo ancora è un loop questa partita un loop crossamela in mezzo che ci provo è calcio di rigore l'ha presa con la mano mi sa io non l'ho visto bene da qui eh sì eh sì l'ha sferata con la mano ci provo vediamo se riesco a segnare questo calcio di rigore ci provo perché me l'ha tirata a centrale l'ho fatto il coso l'ho fatto il tastino io no questo è un col regalaccio madonna madonna porca di quella troia madonna ho regalato il pareggio gli ho regalato forse anche le vittorie se continuiamo così vediamo se situazione ci riesco vaffanculo ci sono riuscito mi sono preso il rigore mi sono ripreso il rigore madonna settantesimo minuto vediamo se riusciamo a ripartire vai così vai così vai così vai così puoi provarci puoi provarci se l'ha fatta parare vediamo se riesco a saltarle ce ne sono tre davanti a me ci posso provare da qui e me l'ha parare si prova di testa non ci arrivo palla spazzata via attenzione attenzione che può ripartire come un contropiede possono ripartire un contropiede attenzione attenzione perché gol mangiato e gol subito ok abbiamo recuperato la palla vediamo se riusciamo a fare qualche azione bella no dobbiamo ripartire per forza indietro sono libero io qua da solo perché non me l'ha passata perché da solo perché perché potremmo chiuderla la partita completamente l'importante è che abbiamo vinto 1-0 madonna dobbiamo continuare così a vincere la classifica è questa mancano solo quattro partite e siamo a 72-65 ormai il campionato di serie B no attenzione raga ho sbagliato cioè quello era così la classifica attenzione perché siamo 75-72 possiamo ancora vincere la serie B raga possiamo ancora farcela dai andiamo parto da sostituto vabbè stiamo vincendo 1-0 siamo contro il frosinone ciao 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 ciao